Buonasera a tutti, bentornati in un nuovo video. Questa sera abbiamo tre varianti per voi con le carte dei tarocchi, dopodiché andremo ad approfondire con gli oracoli e ulteriori carte. Potete fare una domanda o pensare a una persona in particolare e poi ascoltare il messaggio. Come varianti ho preparato i cristalli e abbiamo le matite come primo cristallo, variante numero uno, abbiamo il quarzo fumè come seconda variante e abbiamo il quarzo rosa come terza variante. Cercate di farvi guidare dall'intuizione per fare la vostra scelta e vi ricordo che questo è un video per tante persone, quindi potreste sentire risuonare tutto ciò che dico come anche solo alcune frasi. Io vi consiglio di prendere ciò che vi risuona e di lasciare andare il resto che magari serve a qualcuno che insieme a voi guarda il video. Io parto subito con la variante numero uno, se avete bisogno di più tempo mettete pure in pausa il video e continuate a osservare le varianti. Eccoci con la variante uno, la variante delle matite, andiamo a vedere che cosa si nasconde dietro alle tue carte. Abbiamo un nove di spade al contrario, abbiamo un sei di spade, sempre al contrario, con un sette di bastoni. In questo momento, per te che hai scelto questa variante, sembrerebbe essere appena passato una situazione veramente molto dolorosa. Potresti esserti lasciato, lasciata alle spalle, aver chiuso una situazione che ti ha fatto stare male per molto molto tempo, al punto da non dormirci neanche a volte la notte, avere pensieri ossessivi che ti ossessionavano e ovviamente per trovare soluzioni uno sta sveglio, non riesce a dormire, anche problemi col sonno alcuni di voi e magari hanno dovuto prendere qualche goccia omeopatica o roba del genere, quindi proprio vedo questa cosa, questa energia. Vi vedo anche però, anche se questo dolore diciamo è trascorso, è come se foste impossibilitati o bloccati nell'andare verso qualcos'altro, cioè semplicemente anche solo verso un equilibrio maggiore della vostra persona, quindi una centratura maggiore in voi stessi. Vi vedo un po' come se foste bloccati e penso che questo blocco potrebbero essere alcuni conflitti che ci sono con la persona in questione, o alcuni conflitti o anche delle discussioni animate. Alcuni invece potrebbero avere semplicemente dei conflitti interni e questi conflitti interni sono quelli che non vi permettono di lasciare andare nel passato ciò che è stato. Alcuni ad esempio potrebbero chiedersi continuamente se è stata la scelta giusta o meno e sinceramente qua vedo che da come vi faceva stare la situazione, sì, io penso che se avete deciso di lasciarvi alle spalle qualcosa fosse la scelta giusta, proprio perché sì, c'è il conflitto del mentale che vi può dire ma magari ho sbagliato, magari non era così grave come la vedevo, ma quello che dovete ascoltare è il vostro interiore, quindi se il vostro interiore sta male e ve lo comunica e questa è la cosa importante. Vediamo adesso di chiarire come mai abbiamo la carta del sette di bastoni, come mai? Ok, allora è uscita di nuovo questa carta qui che è la stessa, il sei di denari, eh, scusatemi, di spade, quindi vi ribadisce che veramente per la vostra centratura, il vostro potere e soprattutto la vostra guarigione anche è necessario andare verso qualcos'altro, verso anche soltanto una situazione di maggiore quiete. mentale e tutto quanto. Allora abbiamo la regina di denari e il carro, al contrario. Eh, come vi dicevo qua, eh, vi vedo proprio decentrati, vi vedo fuori un po' dal vostro potere, è come se foste eh, quasi tutti spezzettati in varie parti che non vi permette, questa cosa non vi permette di riunire la vostra energia ed essere focalizzati per esempio su ciò che di nuovo volete creare nella vostra vita. Siete frammentati e è come se aveste perso anche un po' le radici, il contatto con quello che è appunto le radici di madre natura, quindi io vi consiglio molto caldamente di fare delle passeggiate nel verde, stare in mezzo alla natura perché questo vi può aiutare tantissimo a ritrovare la vostra centratura. assolutamente anche dovreste pensare in maniera più focalizzata su quello che è la vostra carriera lavorativa, la vostra, i vostri progetti, tutto ciò che magari avete lasciato perdere per un po' di tempo, per stare all'interno di una relazione o comunque anche solo per il dolore della separazione magari da questa persona, non avete, o da questa situazione, perché potrebbe anche non trattarsi di amore, dovete comunque, avete dovuto scontare e quindi non vi siete più focalizzati su questo. Vedo che è come se ci fosse anche qua, come, visto che è uscito sulla carta del 6 di spade, qua c'è proprio come un'impossibilità nell'andare avanti, nel cominciare un nuovo capitolo, nel andare verso un posto, un qualcosa che vi dia maggior quiete. Vediamo adesso di avere un oracolo per voi. un oracolo per quelli della variante numero 1. Allora, abbiamo purificazione, questi qui si sono girati da soli, quindi non li prendiamo. e adesso io direi di andare a chiarire come mai abbiamo la carta di purificazione. Come mai abbiamo la carta di, anzi, con questo mazzo qua, come mai abbiamo la carta di purificazione? come mai abbiamo la carta di purificazione per quelli della variante 1. Allora, dovete liberarvi da una persona che vi sta manipolando. c'è della manipolazione nel suo modo di approcciarsi a voi, anche se magari potrebbe essere la persona che vi faceva stare così. dicevo, anche se magari non sembra, perché magari sembra amichevole o sembra molto propenso a, non lo so, avere un rapporto diverso da quello che avevate prima, ad esempio, perché qua vedo che potrebbe esservi, potrebbe avervi portati questa persona a stare così, e con il 9 di spade all'inizio stesa. Qua abbiamo bisogno di purificazione, proprio dovete lasciare andare e staccarvi da una persona del genere, che voi riconoscerete, penso, nel momento in cui io la sto nominando, di chi sto parlando, e potrebbe essere che intuitivamente vi arrivi la sua immagine, quindi se dovesse essere arrivata un'immagine, prendetela per buono, ovviamente non dovete basare le vostre scelte su una lettura di carta interattiva, ci tengo a dirlo, però comunque potrebbe essere la prima persona che vi è venuta in mente. E infatti qua mi dice purificazione, bisogna andare verso qualcosa di più sano, se volete un altro rapporto, altrimenti semplicemente in una condizione di vita più pacifica vostra, in cui abbiate la quiete mentale necessaria per pensare a voi, pensare alla vostra vita, all'organizzazione della vostra vita, e creare una routine magari anche che possa togliervi da questa sorta di caos. Quindi purificatevi dalle influenze di questo individuo, e anche direi dalla presenza di questo individuo, perché se alcuni di voi sono ancora in contatto, potrebbe essere che utilizzi il vostro contatto per magari ancora comunque farvi sentire in svalutazione, in triangolazione, quindi magari triangolarvi con una terza persona, farvi sentire male o gelosi, oppure potrebbe comunque continuare ad avere un ascendente sulla vostra vita, o sulle vostre cose, sulla vostra mente, con le sue idee, con ciò che dice e con ciò che poi anche fa. Quindi questo è il consiglio. Adesso direi andiamo a vedere uno di questi oracoli per avere un consiglio per voi. Un consiglio per cui è variante 1. Cerca un segno. Allora potresti aver visto in questi ultimi giorni dei segni. Per segni intendo piume, numeri, persone che passano di fianco a te nella stessa via e stanno dicendo una frase che va esattamente a collegarsi con la tua situazione di vita, magari che vuoi risolvere. Poi i numeri hanno tutti dei loro significati particolari. Se volete ditemelo che vi faccio un video sui significati dei numeri da interpretare come segni e mille altre cose, veramente. Anche canzoni che senti magari per radio o... Insomma, tutte queste cose potrebbero costituire dei segni. Se hai visto qualcosa ricollegarsi a questa persona, ad esempio una canzone che parla di dolore, di sofferenza, di amore, è andato male, e insomma attenzione a quelle parole che dice quella canzone perché potrebbe nascondere una cosa molto importante. Vi racconto una cosa. A me personalmente era successo di trovarmi in una relazione tossica e continuare a sentire la stessa canzone in vari negozi, vari anche bar o per strada, e io continuavo a non considerarla. Cioè pensavo fosse un caso molto tempo fa. Poi ricordo che la cosa lampante è che è passata una persona quando non c'era nessuno in mezzo alla strada con una bicicletta e nel cestino aveva il cellulare che a tutto volume sparava questa canzone. È passata vicino a me, mi ricordo, e io ci ho dovuto prestare attenzione. Sono andata a cercare il significato delle parole di quella canzone e ho avuto tutte le risposte che stavo aspettando riguardo alla determinata situazione. Quindi vi ho fatto solo un esempio. Potrebbe essere una cosa di questo tipo o anche diversa da così, ma capitano così. A volte arrivano le risposte così. Quindi qui vi dicono di cercarla, in queste cose è la risposta sostanzialmente. Vediamo di avere ancora un oracolo per voi. Un oracolo ancora per quelle della variante 1. E abbiamo... La situazione migliorerà. Allora, se stai aspettando che questa persona cambi, sinceramente non mi sento di dirti che questo sia possibile, avendo visto... Cioè questa è proprio l'energia dell'individuo, o il mago al contrario. Lo potete vedere anche nella carta stessa. C'è una persona che manipola le cose. Quindi questo. Però, secondo me, la situazione migliorerà. Infatti la carta, senza farlo apposta, l'ho messa di fianco al 6 di spade. E secondo me qua si parla di un miglioramento nei riguardi della vostra condizione mentale, del vostro equilibrio mentale. Secondo me voi riuscirete a togliervi, purificare la vostra energia da quella di questo individuo, e tirarvi fuori dal disequilibrio nel quale siete finiti. Praticamente dovreste ripulire l'energia anche della vostra vita, delle vostre cose. Non lasciare più entrare questa persona all'interno dei vostri spazi personali. perché questo può cambiare la vostra visione della vostra stessa vita, in alcuni casi, ok? Io spero di esservi stata utile e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video e io passo alla variante numero 2. Eccoci alla variante 2 con il quarzo fume. Andiamo a vedere cosa dicono le tue carte. Ok, allora, qua potrebbe esserci una situazione nella quale un'energia femminile ha trionfato su un'energia maschile. C'è stato un plot twist, un cambiamento di situazione. potrebbe essere che... Allora, questa energia maschile mi sembra una persona molto autoritaria e anche a volte può diventare aggressiva, può diventare dispotica, letteralmente. E non ha equilibrio in ciò che è la gestione del suo potere personale, la gestione del suo farsi vedere, farsi sentire dal mondo negli altri, no? E' come se per farsi sentire, per dire che esiste, questa persona dovesse essere aggressiva nei confronti un po' di tutti, dovesse imporre il suo punto di vista, imporre ciò che è. Questo è anche dovuto da tantissima energia che questa persona ha dentro. E' una persona che potrebbe essere estremamente creativa, estremamente acuta, intelligente e soprattutto molto passionale, sia nei litigi che sotto le coperte, insomma. Questa è una persona che però è riuscito, non è riuscito, perdonatemi, a mantenere il controllo su queste sue energie, quindi è come se fossero esplose. E dall'altra parte abbiamo un'argina di pentacoli che potrebbe rappresentare la vostra energia, ma non è detto, nel senso che magari voi siete quelli che stanno osservando dal punto di vista maschile e questa invece è l'altra persona. Quindi come anche potrebbe essere che siate uomini e avere una prevalenza di energia femminile o viceversa, quindi vedete voi come vi suona. In ogni caso qua vedo che grazie al cielo la figura femminile non è scalfita da questo cambiamento repentino, questo squilibrio che l'energia maschile ha subito. Potrebbe anche trattarsi semplicemente di voi, quindi che non abbiate a che fare con nessuno, ma visto che all'interno di noi ci sono sempre un'energia maschile e un'energia femminile, questa stesa vi voglia dire che avete l'energia maschile in disequilibrio. Quali aspetti dell'energia maschile in particolare? Quelli che ho menzionato precedentemente. Quindi quando si tratta di avere potere sulle vostre cose, di imporvi, è come se lo faceste in maniera molto squilibrata, ripeto, è come se doveste urlare al mondo che ci siete anche voi, che esistete anche voi e che nessuno deve permettersi di farvi del male o di prendervi in giro, è come se aveste questa cosa. Quindi di conseguenza diventate infastiditi e anche violenti, potrebbe succedere questo. Non c'è nulla di male, è semplicemente una cosa da tenere sotto controllo. Inoltre abbiamo appunto questo re di bastone al contrario, quindi fate attenzione ad esempio se non riuscite più ad esprimervi dal punto di vista creativo, perché potreste avere un blocco anche in questa energia. Invece vedo solida l'energia femminile con anche i frutti di ciò che magari ha creato, magari appunto, ripeto, se si tratta solo di voi, quindi questa è la vostra energia femminile, avete creato della solidità intorno a voi, quindi non vi preoccupate per questo disequilibrio, perché la solidità che avete vi permetterà di riequilibrare il tutto. Se invece si tratta di voi, e questa è un'altra persona, voi avete mantenuto, nonostante questo suo andare in disequilibrio, avete mantenuto la vostra solidità. Siete collegate con la vostra fonte, diciamo, con la vostra parte più profonda, con la vostra centratura. Voi non siete usciti dal vostro centro, e questa è la cosa importante. Adesso io direi di andare a chiedere come mai abbiamo il re di bastoni al contrario ai tarocchi. Come mai abbiamo il re di bastoni al contrario? Ok, è uscito il matto in posizione così obliqua. Allora, penso che alcuni di voi, ad esempio, che stanno guardando e che si riconoscono nell'energia maschile, oppure alcune delle persone delle quali avete chiesto e le riconoscerete perché si rifanno nell'energia maschile, potrebbero avere un problema proprio di gestione della propria impulsività. Sono persone o siete persone che tendono a buttarsi di testa nelle cose e magari a volte anche prendere delle grandissime testate quando non sono le cose giuste, insomma, da fare. Oppure quando prendete... Diciamo che la vostra energia è un'energia di follia, che è un'energia però positiva, perché il matto è un'energia molto positiva, è un'energia di caos, di follia appunto, follia sana, ma quando esce al contrario intende un'energia anche un po' avventata, un po' quasi senza senno, una persona che si butta dove è pericoloso senza senno, ok? Questo intende. Quindi, visto che mi esce per così, io vi dico che continuate a passare da una cosa all'altra, oppure la persona della quale chiedete continua a passare da una cosa all'altra, ed è come se non ci fosse mai un equilibrio all'interno di questo. Mai. Vediamo un po' un'altra carta dei tarocchi, sempre per chiarirci il re di bastoni. Prendiamo l'ultima. Ok, questo non vi permette di sentirvi mai come se foste a casa. Cosa intendo? Avere un luogo nel quale sentirvi bene e soprattutto sentirvi in equilibrio. E' come se voi, perché la casa non è solamente la casa fisica, ma è anche la casa interna, no? Metaforicamente parlando. Quindi, è come se non poteste mai avere un... una sorta di equilibrio, un posto internamente in cui sedervi e dire ok, va tutto bene. Non ce l'avete. Questa cosa non c'è. Allora, adesso io chiederei un oracolo per voi. Oppure, ripeto, la persona da quale chiedete non ce l'ha questa cosa. Vediamo un oracolo. Un oracolo per cui la variante 2. Allora, il tuo desiderio si avvererà. Non so che si riferisce se a voi o se all'altro. Chiunque stia guardando, sappia che il vostro desiderio si avvererà. Abbiamo questa carta, però abbiamo anche appunto il blocco nel vedere questo. È come se non ci fosse la possibilità di vedere in questo momento questa possibilità. Quindi, in realtà, il cervello poi lavora secondo ciò in cui noi crediamo. Se noi crediamo di poter fare qualcosa, allora riusciremo a farlo. Se noi non crediamo di poter fare qualcosa, lavorerà contro di noi, sabotandoci. Quindi capite che voi, non credendoci, sabotate il vostro desiderio in questo modo. Allora, voglio chiedere una carta per sapere cosa dovete fare per realizzare questo desiderio. Ok, abbiamo un'altra regina di pentacoli. È strano quando le carte escono doppie così. È già uscito nell'altra variante. Qua mi ribadisce il concetto. Voi, l'unica cosa che dovete fare se siete l'energia femminile che guarda è rimanere nella vostra centratura. Anche se siete un individuo solo e avete tutte e due le energie, qua, per riequilibrare quella maschile vi dicono rimanete saldi o salde centrati centrate nella vostra energia. Perché qui può semplicemente poi ritornare in equilibrio l'energia maschile. Il vostro desiderio si avvererà nel senso che ritornerà in equilibrio questa energia maschile ritornerà a essere un un folle però dal punto di vista positivo quindi portare il caos portare il caos e poi la creazione quindi portare novità portare un'energia libera all'interno magari del vostro rapporto. Adesso andiamo a vedere un oracolo per voi un oracolo per quelli della variante 2 un oracolo per quelli della variante numero 2 un oracolo per voi abbiamo questa carta che dice tempismo perfetto allora sì dovete lasciare il tempo a questa persona se è qualcuno di diverso da voi di elaborare determinate cose di elaborare soprattutto il suo disequilibrio il suo stesso disequilibrio nel quale questa persona è perché sono tappe fondamentali della sua evoluzione se invece si tratta di voi dovete prendervi il tempo non dovete pensare alla relazione ma dovete prendervi il tempo per curare questo vostro disequilibrio e dovete farlo sviluppando l'energia femminile e mantenendo l'energia femminile in equilibrio la persona alla quale vi riferite come energia femminile comunque starà in equilibrio nel suo spazio e questo già solo da osservare vi permetterà di calmarvi e di fare appunto più equilibrio nella vostra energia nella vostra situazione se invece siete un individuo unico io vi dico di continuare a lavorare i vostri progetti con la vostra energia femminile perché l'energia maschile si andrà mano a mano a equilibrare non vi preoccupate ok allora vediamo abbiamo anche questa carta su fondo mazzo che mi dice improving health quindi state guarendo la parte lesa qua diciamo la parte che sta male sta guarendo la parte in disequilibrio si sta allineando quindi abbiate fiducia in quello che sta succedendo e nel tempismo divino perché è all'opera per voi fatemi sapere se è risuonato questa stesa nei commenti mi raccomando io vi ringrazio vi saluto e passo alla variante numero 3 eccoci variante numero 3 con il nostro quarzo rosa andiamo a vedere cosa dicono le tue carte 8 di denari 3 di coppe al contrario e 8 di spade allora alcuni di voi potrebbero essere estremamente concentrati sui propri obiettivi quindi anche sui propri obiettivi lavorativi sui propri progetti qui abbiamo una persona che in serie produce qualcosa e che si occupa proprio di questa creazione quindi voi siete al momento molto focalizzati su questo potreste non prendere in considerazione magari eventi mondani o comunque delle magari possibilità situazioni nelle quali possiate vivere un pochino più in maniera serena spensierata magari con amici il vostro tempo è come se foste completamente chiusi nel vostro laboratorio ovviamente stiamo parlando di un laboratorio metaforico perché magari semplicemente voi in casa state progettando qualcosa alcuni di voi potrebbero essersi stufati di un lavoro che gli faceva stare male infatti vedo questo otto di spada al contrario vi siete lasciati alle spalle una situazione che vi faceva sentire quasi come in gabbia come questa figura quindi con una benda a volte perché forse non riuscivate alcuni di voi non riuscivano a vedere quanto stessero male in un ambiente che non gli apparteneva in un ambiente che non esprimeva magari la propria creatività o la propria passione verso qualcosa magari adesso avete iniziato con la vostra passione a progredire su quello che è la vostra strada quindi volete alcuni di voi vogliono proprio fare della propria passione il proprio lavoro e adesso state lavorando a questo siete talmente concentrati su questo perché lo volete così tanto che per il momento avete messo in stand by tutto il resto della vostra vita anche magari sociale allora qui comunque siete usciti da questa situazione quindi se ancora siete in un posto di lavoro che vi fa stare male sapete che siete usciti da questa situazione energeticamente parlando non ci siete già più quindi non vi preoccupate perché è solo questione di tempo prima che usciate da questa cosa se invece già ne siete usciti io vedo che se avete ancora dei dubbi sul aver fatto bene o aver fatto male non vi preoccupate perché innanzitutto qua io vedo una situazione veramente molto dolorosa e stressante per voi quindi lasciarsi alle spalle una situazione del genere è stata indubbiamente la scelta più giusta che potevate fare per voi stessi in secondo luogo io qua vedo una grandissima capabilità intraprendenza e voglia di mettersi alla prova di fare le cose e di creare ciò che desiderate quindi non vi preoccupate anzi investite su di voi perché siete una sorta di cavallo vincente anzi ci sono persone che magari non si impegnerebbero così tanto come state facendo voi voi siete perennemente concentrati su questo al punto di escludere la vita sociale ovviamente attenzione anche a questo perché bisogna sempre trovare un equilibrio non va mai bene escludere qualcosa per qualcos'altro quindi attenzione anche a questo atteggiamento però ecco questo è l'atteggiamento che usato in modo sano e parsimonioso vi può assolutamente portare a creare tutto ciò che volete dal punto di vista dei progetti quindi non abbiate paura di non riuscirci ecco questo vi voglio passare come messaggio vediamo adesso di avere una carta ulteriore per il 3 di coppe al contrario perché abbiamo il 3 di coppe allora dunque abbiamo queste carte qua dunque allora qua c'è stata una situazione allora sì secondo me voi avete avuto una grossa delusione amorosa potrebbe trattarsi di una persona che dovevate sposare o con la quale comunque avevate un legame molto molto forte ad esempio una lunga convivenza una lunga insomma un fidanzamento durato tanto tempo e si parlava magari di matrimonio eccetera però non è avvenuto questo perché questa persona si è rivelata come un fante di bastoni quindi una persona estremamente impulsiva appassionale appassionale quello che volete ma comunque infantile non in grado di prendersi le sue responsabilità allo stesso tempo io qua vedo anche che in maniera non tanto carina questa persona era come se facesse è come se questa persona giocasse a tenere un po' il piede in due scarpe avesse giocato ecco quindi abbia tenuto in piedi più situazioni contemporaneamente ma agli occhi degli altri volesse apparire come una persona estremamente generosa infatti qua vedo anche un disequilibrio nella relazione quindi questo è il chiarimento alla relazione che avete vissuto secondo me dopo aver vissuto questa roba qui voi adesso non ne volete più sapere quasi neanche di vita mondana né di insomma divertire volete concentrarvi su quello che non avete fatto prima allora vi dico ci sta a prendersi un periodo di pausa e quindi secondo me se lo volete e ve lo sentite vi fa bene attenzione solo appunto quando si magari questa cosa possa sfociare nell'isolamento perché ecco questo vorrei dirvi di evitare tutto qua allora adesso vi direi di andare a vedere anche un oracolo per quelli della variante 3 in ogni caso tranquilli perché siete un cavallo vincente su cui puntare allora vediamo un oracolo per quelli della variante 3 un oracolo per quelli della variante numero 3 tiriamo fuori noi ok allora la realtà è quella che hai intuito probabilmente non avete ancora elaborato molto bene questa relazione terminata perché forse è come se nonostante abbiate intuito qualcosa non abbiate ancora avuto quasi il coraggio di dirlo a voi stessi che era veramente così e credo che si possa trattare per la maggior parte cioè per alcuni non so per quanti ma che questa persona abbia giocato con voi con i vostri sentimenti e magari anche abbia tenuto in piedi due situazioni e voi non vogliate ammetterlo a voi stessi cioè avete intuito ma non riuscite quasi a dirvelo da soli perché vi fa stare talmente male che non ci volete fare i conti con questa cosa anche se fa male il problema è che ovviamente rimane tutto bloccato perché non elaborando le cose rimane bloccata anche della rabbia e poi alla fine cosa succede che vi ritrovate anche a evitare contesti sociali perché ovviamente se non ci si fida poi più di nessuno o comunque se sia un dolore del genere che non si riesce a elaborare può essere che questa sia la conseguenza quindi attenzione a questa cosa allora perché abbiamo il la carta di la realtà è quella che è intuito per quelle della variante ecco guardate abbiamo il diavolo la torre abbiamo il fante di denari l'eremita e la casa sì allora secondo me questa persona aveva questi atteggiamenti avete portato avanti questa relazione per troppo tempo e qua c'era proprio una resistenza nel lasciarla andare sia da parte vostra che da parte dell'altro però il problema è che quando accade da entrambe le parti si rischia di rimanere invischiati in una situazione in una relazione che doveva finire anche molto tempo prima però io vedo che con la fine di questa relazione finalmente si sono tolte di mezzo tutte delle ossessioni delle paranoie dei pensieri ossessivi della tossicità ecco che vi legava a questo individuo potrebbe essere anche l'attaccamento potreste soffrire di dipendenza affettiva per alcuni di voi se è così andate a vedere se vi va la mia playlist di psicologia e crescita personale perché parlo proprio di come come andare ad agire sulla dipendenza affettiva per curarla e inoltre vi dico che appunto qua c'è stato un matrimonio o una convivenza o un rapporto molto molto stabile perché c'è proprio questa carta che mi parla di casa quindi molti di voi vivevano letteralmente in casa insieme con questa persona ci hanno vissuto per molto tempo anche però qui abbiamo una persona che non è come se non volesse stare sola è come se non volesse forse anche un po' voi non volevate entrare all'interno dell'energia dell'eremita quindi che cosa serviva fondamentalmente a questa relazione per terminare come poi è successo un'introspezione da parte di entrambi forse siete stati solo voi a fare questa introspezione e a capire che c'erano delle cose che non andavano bene e a terminare la relazione fondamentalmente avete visto che l'altro è una persona molto immatura che per quanto vi possa portare una stabilità sarà sempre precaria sarà sempre qualcosa che magari non vuole davvero fare perché ha magari sa di poter avere altre possibilità sa che si sta non lo so si sta perdendo secondo lui o secondo lei delle cose a stare all'interno della relazione quindi è chiaro che non è pronto o non è pronta deve ancora fare delle esperienze quindi voi avete capito questo e avete praticamente chiuso la relazione però ecco quello che mi preoccupa è che questo peso potrebbe essere gravato tutto quanto su di voi questa cosa potrebbe parlare anche di lavoro quindi un contesto del genere potreste averlo vissuto anche sul lavoro aver avuto una persona che non si è presa minimamente magari le responsabilità di un vostro progetto comune oppure se siete dei dipendenti di un progetto che vi ha dato da fare quindi se magari ci sono stati degli errori di calcolo degli errori di progettazione e voi avete dovuto realizzarlo potrebbe essere stato che vi abbia dato la colpa vi siete dovuti addossare tutta quanta la colpa del problema oppure se ve ne siete andati ok quindi vi siete dovuti un po' addossare tutta la colpa anche del fatto che magari ve ne stavate andando da lì quindi è sempre brutto quando non ci si trova bene in un posto o non ci si trova bene con una persona questa persona arriva al punto di farsi lasciare oppure sul lavoro si arriva al punto di avere un rapporto talmente brutto e subordinato che magari il capo inizia a non so dare dei compiti delle mansioni che non sono neanche un dovere della persona stessa solamente proprio per portare la persona allo sfinimento e costringerla ad andarsene dal luogo di lavoro stessa cosa può succedere in una relazione quindi il partner inizia ad avere dei comportamenti sempre peggiori sempre peggiori per portare la persona a stufarsi in modo da essere lasciato questi sono comportamenti molto tossici quindi se vi posso dire la mia meno male che vi siete lasciati alle spalle questa roba perché veramente vi intossicava anima e corpo e spirito attenzione allora chiederei adesso un oracolo per voi per capire anche cosa dovete fare qui abbiamo nelle prossime poche settimane una tempistica per che cosa di che cosa si riferisce se non lo dice lo chiediamo poi anche ai tarocchi guarda cerca un segno la situazione migliorerà e riconsidera ok allora sul fondo del mazzo abbiamo acquisisci maggiori informazioni evidentemente nelle prossime poche settimane avrai modo di riconsiderare alcune cose o alcune persone che magari non hai capito non hai compreso perfettamente e adesso le riuscirei a vedere poi sotto una luce differente se sono persone che ti hanno fatto del male potresti passare dal vederli come persone a cui tieni che ti hanno fatto tanto male eccetera a qualcuno che si è comportato in maniera anche un po' patologica perché sì perché i comportamenti che ho descritto lo sono quindi potresti acquisire maggiori informazioni riguardo a questo argomento magari informarti su qualche libro qualche libro di psicologia o cose di questo tipo e con queste informazioni in più riconsiderare la persona o il contesto ma questo è una riconsiderazione che avverrà dentro di te ok quindi ti farà stare meglio sarà una considerazione che ti permetterà di elaborare che cosa è successo e di non dargli più tutto questo peso qua stava venendo fuori un'altra carta qua sotto che è il tempismo perfetto allora quello che ti vuole dire secondo me è che non ti devi preoccupare se al momento magari la situazione è un po' di stallo perché si sta muovendo tutto e si sta posizionando tutto quanto affinché tu possa avere finalmente una vita che vuoi l'universo sta lavorando per te quindi non ti preoccupare non è tutto sulle tue spalle devi solamente fare i passi che concernono la tua evoluzione tutto il resto ci pensa l'universo cerca un segno perché comunque questa intuizione per riconsiderare appunto queste persone potrebbe anche arrivarti da un segno o da qualche frase detta magari se guardi questi video interattivi potresti sentire qualche frase che ti fa riconsiderare determinate persone quindi prova a fare attenzione a tutte queste cose e la situazione migliorerà sarai meglio sarai più leggero più leggera più libero più libera devi solo ancora finire di elaborare tutta questa roba e poi potrai semplicemente continuare a lavorare ai tuoi obiettivi e io comunque ti vedo vincente perché hai tantissima capabilità in questo fammi sapere se hai risuonato questo messaggio spero di essere stata utile di aver aiutato noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video e ti auguro una bellissima serata ciao ciao